Grazie a tutti. Non lo so, io inizialmente ho tentato di prendere un po' di posizione, poi mi è stato detto di tutto, per cui mi sono poi dovuto accodare, perché si sono scomodati tutti i personaggi più illustri. Però il ragazzo merita, è un ragazzo sano, una persona sensibilissima, uno che ha una straordinaria qualità. Perché poi è vero che durante il primo tempo non è riuscito a saltare l'avversario in questo spazio che aveva quando abbiamo portato palla velocemente da destra a sinistra. Lui aveva la possibilità, perché lo teniamo aperto apposta per riuscire a fargli fare questi uno contro uno, però nel secondo tempo ne ha fatte due, che poi ha calciato tutte e due le volte alto. E lì lui ha fatto due numeri pazzeschi da un punto di vista di qualità e di sostanza. Poi, come altri calciatori, probabilmente ci è arrivato un po' con il fiato tirato, perché si è visto in quest'ultimo periodo che qualcuno ci è arrivato con un po' di fatica a queste partite, che è un po' di fatica fatta senza aver recuperato benissimo e ha un po' annebbiato quella che era la possibilità di esprimersi al massimo. Noi abbiamo fatto, complessivamente abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, Caraschelia è una grande persona, sono felice di lavorarci insieme. e ci darà ancora la sua qualità per questo grande obiettivo che abbiamo davanti, perché ce l'ha, perché ne abbiamo bisogno e perché lui ce la vuol dare. Grazie a te. Buonasera, Ministro. Dove sei? Eccomi qua. Buonasera, lei ha parlato poco fa di un annebbiamento dal punto di vista atletico, fisico da parte di alcuni, ma col senno di poi quel 4-0 in campionato, ininfluente dal punto di vista della classifica, pensa che possa avere un pochino minato le certezze in allo spogliatoio negli ultimi giorni? Sì, ma secondo me le prestazioni successive non dicono questo, perché noi abbiamo fatto due grandissime prestazioni, sia nella prima partita dove abbiamo perso, sia stasera. Come ho detto prima, non so se l'ho già detto a Patrick che faccio i complimenti al Milan per il passaggio del turno, perché io l'ho detto solo in televisione, comincia a vecchiare, perde un po' di colpi. E gli si dice bravi, però noi abbiamo fatto due prestazioni di sostanza, abbiamo fatto due grandissime prestazioni in Mila, poi ci ha creato dei problemi, ma anche lì nei problemi che ci ha creato, cioè si commettono delle ingenuità che noi non possiamo commettere per quello che è il livello di calcio e ciò che abbiamo portato avanti in questa stagione qui. E quindi dico di no, non aveva minato niente, però ci ha minato quel turno delle nazionali, perché poi sono tornati in tre infortunati, sono tornati da dei viaggi intercontinentali, sono andati a giocare su dei campi perché noi li abbiamo visti anche dove hanno giocato, sono andati a giocare su dei campi incredibili, cioè se uno va a vederli veramente c'è da prendere delle situazioni, sono tornati stanchissimi, probabilmente la vittoria di Torino gli ha messo in testa che poi il campionato sarebbe stata una formalità e quella partita lì poi diventava una serata di gala bellissima, però senza avere la cattiveria che poi diventava determinante quel risultato avendo un po' di margine, ecco probabilmente dico perché poi siamo stati troppo leggeri in delle situazioni nei gol presi. Però in queste due partite abbiamo fatto il Napoli, l'abbiamo fatto bene, ci fa piacere aver rivisto lo stadio lottare insieme alla squadra stasera e un'altra cosa che ci dà amarezza e non avergli potuto dedicare questa vittoria perché in alcuni momenti è stato commovente e neanche loro avrebbero meritato. Grazie. Salve, buonasera. Considerando le due buone prestazioni contro il Milan, cosa è mancato allora al Napoli per poter andare avanti? L'ho detto, siamo stati un po' ingenui, ci sono arrivati io in fiato corto, se vuole glielo ripeto, però sono quelle cose lì. Anche Osimen ci è arrivato bene, poverino, ha lottato fino da ultimo, però si è allenato tre giorni insieme alla squadra e quando sei così vicino alla partita non è che tu faccia degli allenamenti dove alzi il livello di costruzione, pressione, costruzione, pressione, queste scorribande a campo aperto dove ti mandano il grafico alle stelle, sono quelle le cose allenanti, non è, ma visto che palla gli ha dato, ma visto che questo sbattersi sulla linea di fondo da una parte, ripartire per andare a fare inserimenti sulla linea dell'area opposta, sono questi sciagattoni a grandissima velocità che danno poi l'allenamento, per cui ci siamo arrivati un po' con dei giocatori non allenati, con tanti problemetti perché da quel turno di nazionale ci siamo arrivati, ma non è una scusante in funzione del risultato che è venuto fuori, perché non le prestazioni le abbiamo fatte tutte e due stasera, che cosa gli vado a dire ai calciatori? Gli vado a dire che meritavano, per cui poi si accetta quello che è il verdetto del campo, a me niente mi consolerà, può succedere qualsiasi cosa, ora sono inconsolabile, però poi ai calciatori gli si dice sempre la verità, bisogna essere giusti, e loro stasera hanno fatto una grandissima partita, non hanno avuto soste mai, hanno sempre provato a fare quello che dovevano fare, non hanno mai avuto dubbi sull'andare a fare la partita, andare addosso, il Milan poi ha vinto anche meritatamente perché c'è anche quel lato lì, saper capitalizzare al massimo le occasioni che ti capitano, e quindi bravi a tutte e due, bello spettacolo, un po' d'amarezza. Proprio per quello che diceva, al diare l'ingenuità sulle ripartenze subite all'andata e al ritorno, è il rimpianto più grande delle occasioni fallite sotto porta all'andata, e qualcuno anche stasera, e poi se ci fa un quadro su Politano, Rachmani e Mario Rui che sono usciti acciaccati? Ma sono un po' tutte le cose, sono un po' tutte le cose, Politano e Mario Rui bisogna fare degli approfondimenti perché poi Politano ha preso la botta, ha alzato subito il braccio, nel senso che non ce la faccio, Mario Rui rientrando ci ha detto di mandare a scaldare Oliveira perché cominciava a zoppicare e c'ha male sull'osso qui vicino al ginocchio, per cui sono tutte cose che bisogna approfondire, bisogna fare degli accertamenti. Buonasera mister, questa sera è ritornato il Maradona che tutti noi auspicavamo, un pubblico che ha spinto la squadra dall'inizio alla fine, può essere un'ulteriore motivazione per riprovarci anche nella prossima stagione a fare questo fantastico percorso in Champions? Abbiamo una squadra forte, come ho sempre detto, abbiamo una squadra fortissima, è una squadra nuova, una squadra giovane, da quest'anno che ci stiamo lavorando, io credevo andando a metterci le mani in maniera pesante, tentando di convincere a giocare per delle cose importanti, che poi ci fossero delle cadute perché avevamo essere in preventivo anche di perdere delle partite, ma di continuare a fare un calcio che ci piaceva, che ci stimolava, perché quando l'abbiamo imbastito all'inizio in preparazione, che si fa? Si va a fare le partite, si aspetta, al di là del fatto che in alcuni momenti sei costretto a ripiegare, a stare con tutta la squadra sotto palla e dipende anche dalla forza dell'avversario, però mentalmente come ricerca è questo calcio qui, per cui glielo dico ora, sono stati bravissimi per tutto l'anno, ma soprattutto in Champions, noi si è giocato delle partite magnifiche in Champions League, proprio come mentalità, a me non me ne frega niente, del gioco verticale, la mentalità di andare addosso, di andare sempre a sbattere, di fare sempre la partita, di lasciare uno contro uno, di correre il rischio di prendere dell'imbarcata come abbiamo preso stasera, in alcuni momenti, anche se poi sono dipese da delle ingenuità, anche quelle lì, però proprio stasera che siamo usciti da questa competizione, gli dico che ci fa malissimo per noi, per il pubblico, gli dico che sono stati una squadra eccezionale, e che gli voglio bene. Prego, cosa? La risposta sul pubblico, ho parlato anche prima, ho detto sono stati commoventi, da qui in avanti non deve più mancare questo sostegno, perché abbiamo ancora un'immagine bella da completare, per quanto riguarda il nostro percorso e quella lì sarà un'altra immagine che ci darà la felicità per sopperire all'amarezza di stasera. Salve mister, Michele De Blasis, secondo lei può aver fatto la differenza soprattutto il DNA europeo che ha il Milan rispetto al Napoli? Sotto l'aspetto degli episodi l'ha fatta molto, sotto l'aspetto dell'esperienza, probabilmente vedere intorno lì gente che ha fatto finali su finali, che hanno vinto, vedere la bacheca, vedere personaggi del calibro di quelli che ha il Milan intorno alla squadra, gli ha dato sicuramente convinzione, che poi quella è una competizione che li riguarda da vicino, proprio per la storia che hanno su questa competizione. E probabilmente proprio per questa esperienza hanno raccolto anche qualche piccolo episodio, hanno portato a casa anche qualche piccolo episodio a favore per questo passato, per quella che è l'importanza del club. Eccomi, buonasera. Mi collego proprio al discorso che faceva ieri sull'importanza del club. Anche gli arbitri l'hanno sentita, questa differenza di importanza del club. Se è così, come si risolve questa cosa, secondo lei? Che gli arbitri? Siamo arrivati penalizzati dalla partita precedente, perché quelli che hanno forza e che hanno sostanza, due di quelli, sono quelli che ci sono stati tolti, secondo me, ingiustamente. Però poi, non lo so. Mi sembra che su quella che è stata la valutazione, e l'ho già detto, della prima gara, ho visto anche giornali schierati dargli l'insufficienza, per cui il segno è la fatta è proprio grossa per aspettarsi questo. E poi, stasera ai 37esimo c'è il calcio di rigore. Rigore netto. Per cui, rigore netto che non si può vedere, non si parla di contatto, perché poi, alcune volte, bisogna parlare di impatto, quando si vanno a valutare, quando c'è un contatto. Un contatto è un contatto. Un impatto è un impatto. Contatto, impatto. Stasera, impatto. Perché gli ha stravolto la caviglia con quel calcio che gli ha dato. Stavolto la caviglia, per cui era il numero uno del calcio, perché quest'arbitro che c'era stasera è il numero uno del calcio, l'hanno guardato bene al VAR, per cui probabilmente il passato in Champions un po' conta. Grazie. 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 Grazie.